Bentornati, ci siamo lasciati la volta scorsa sull'analisi dell'Ambient Occlusion. Oggi andiamo avanti andando ad analizzare Shadow Catcher e per farlo vi propongo un esercizio pratico da fare insieme in cui andremo a inserire un oggetto all'interno di una fotografia. Come possiamo vedere abbiamo questa mesh che proietta un'ombra sul pavimento della piazza. La scena è molto semplice, si tratta di una semplice mesh, la nostra famosa Suzanne, che non solo viene inserita nella foto ma proietta un'ombra sul pavimento della piazza. Per ottenere questo risultato utilizzeremo un software open source che si chiama Fspy. Lo potete trovare nel sito fspy.io e lo trovate per Mac, Windows e Linux. Una volta avviato ci troviamo questa interfaccia molto minimalista nella quale andremo a trascinare la foto in cui vogliamo inserire il nostro oggetto. Questo programma serve per aiutarci a impostare la telecamera di Blender in modo che sia nella stessa posizione della macchina fotografica che ha scattato questa foto. Se avete piacere potete scaricare questa foto dal link che vi lascio nella descrizione di questo video ma comunque potete usare qualsiasi tipo di immagine creata da voi. Una raccomandazione è quella di avere dei punti di riferimento validi per andare a indicare quali sono gli assi di riferimento della scena. Facciamo clic su Dim Image per vedere la foto alla sua luminosità normale e andiamo a individuare quali sono gli assi che possiamo indicare al programma per calcolare il punto di ripresa della macchina fotografica. Intanto abbiamo la possibilità di indicare un'asse Z, ovvero la linea verticale di questa parete e abbiamo anche un'altra linea verticale in quest'altra parete. Ce ne servono sempre almeno due. Un altro valido punto di riferimento invece sono queste linee sul pavimento che ci potranno dare, ad esempio, la direzione dell'asse Y. Quindi andiamo a indicare che gli assi dei punti di fuga non sono X e Y ma sono Z e Y. Infatti adesso sono cambiati i colori. Abbiamo le linee blu e le linee verdi. Andiamo a spostare l'asse Z. Ogni asse è definito da due segmenti con due punti di manipolazione. Quindi adesso clicco e trascino. E la stessa cosa anche per l'altro punto. Mentre per il lato opposto ci spostiamo su questo altro edificio. Per quanto riguarda invece l'asse Y andiamo a prendere due linee della pavimentazione. Torniamo a mostrare l'immagine alla massima luminosità per andare a controllare di aver posizionato bene i segmenti. Ed ecco che abbiamo definito il nostro sistema di riferimento. Se adesso facciamo clic sull'origine degli assi XYZ andando a spostare questo punto nelle diverse posizioni della foto vediamo che gli assi si adattano alla geometria rappresentata dalla foto stessa. Naturalmente questa è un'approssimazione che però dovrebbe essere sufficiente per rendere un fotoinserimento abbastanza realistico. Possiamo inoltre fare clic su questo menu sulla sinistra nella guida 3D e per esempio selezionare Box. Vedete ci compare un cubo che possiamo andare a posizionare nella nostra foto per vedere se abbiamo fatto un buon lavoro. Una volta soddisfatti della definizione del punto di ripresa andiamo nel menu file e facciamo clic su Save As per andare a salvare il nostro file che avrà un'estensione f.spy. Torniamo in Blender con un nuovo file e prima di proseguire accertiamoci di aver installato anche l'add-on per l'importazione dei file f.spy. Andiamo nelle preferenze, nella sezione add-on e cerchiamo f.spy. Nel mio caso l'ho già abilitato. Se voi non l'avete potete sempre dal sito dal quale abbiamo scaricato f.spy andare a cliccare su official f.spy importer add-on per Blender. Una volta abilitato l'add-on non dobbiamo far altro che andare nel menu file import f.spy e andare a selezionare come file quello che abbiamo appena esportato. Blender crea per noi un nuovo oggetto camera, in questo caso si chiama assisi.fspy perché è il nome del file che ho creato io. Nel vostro caso avrete il nome del vostro file. Poi abbiamo il nostro oggetto, il cubo, che in questo caso possiamo cancellare. Quello che andremo a fare sarà inserire la mesh che vogliamo rappresentare, nel mio caso la testa di scimmia. Quindi Shift-A, monkey e la spostiamo ad esempio qui. Attenzione, cosa stiamo vedendo? Stiamo vedendo la foto di sfondo che abbiamo importato grazie al file f.spy ma la stiamo vedendo perché è stata impostata come immagine di background della nuova camera che è stata creata dall'add-on f.spy. Se ruotiamo la vista all'interno della viewport 3D l'immagine scompare. Quindi quando è che la vediamo? La vediamo quando siamo in vista camera, quando premiamo ad esempio il tasto 0 del tasterino numerico che sarà effettivamente il nostro risultato del rendering. Ricordiamoci di abilitare Cycle come motore di rendering e passiamo in vista rendered. Vediamo che la fonte di luce illumina la testa di scimmia da dietro. Possiamo ad esempio modificarla selezionandola e facendo clic nel Object Data Properties e quindi andando a selezionare Sun. Spostiamo un valore pari a 2 come potenza e come inclinazioni dei raggi solari possiamo farci aiutare dall'ombra su questo muro. Quindi facciamo clic su questo pallino giallo e andiamo a far combaciare la linea dell'ombra. Naturalmente poi bisognerebbe vedere anche dal fianco come l'ombra è inclinata. Premiamo di nuovo il tasto 0. Abbiamo la nostra immagine di sfondo, abbiamo la nostra testa di scimmia, ma quello che manca è l'ombra. Perché non vediamo l'ombra sul pavimento della piazza? Perché non c'è nessun oggetto che la raccolga, quest'ombra. Perché l'immagine che vediamo di sfondo è semplicemente una proiezione che viene applicata al nostro oggetto camera. Quindi quello che dovremo fare è inserire un oggetto che catturi l'ombra e nel nostro caso andrà benissimo un oggetto di tipo Plane. Quindi Shift A, Mesh, Plane. Scaliamolo e vediamo adesso che l'ombra c'è. Purtroppo però l'oggetto Plane va a coprirci parte dell'immagine di sfondo e questo noi naturalmente non lo vogliamo. Quindi come dobbiamo fare per dire a Blender che vogliamo solo l'ombra di questo oggetto? Selezioniamolo, andiamo nella sezione Object Properties, in particolare nella sezione Visibility e andiamo a selezionare Shadow Catcher. Ecco che il Plane cambia colore ma ci sembra di continuare a vederlo. In realtà noi quello che stiamo vedendo è lo sfondo, il nostro oggetto World, che in questo caso è un grigio. Per avere l'effetto finale dobbiamo chiedere a Blender di rendere trasparente la nostra luce ambientale, il nostro World. Andiamo quindi nella sezione Render Properties, andiamo a cercare Film, ovvero la pellicola, e andiamo a indicare a Blender che la vogliamo trasparente. Ecco quindi che scompare la visibilità del nostro World, infatti vediamo questo sfondo a scacchi, e la nostra ombra adesso viene proiettata su un oggetto che è effettivamente invisibile, dando questo effetto particolarmente realistico alla nostra scena. Capite quindi che con questo sistema possiamo fare dei fotoinserimenti in maniera molto veloce e anche estremamente efficace. Un esempio di lavorazione che potrebbe avvenire grazie a questa tecnica è quello di andare a visualizzare i lavori e le facciate di un condominio, ad esempio per l'installazione di un cappotto termico. Proviamo adesso a lanciare il rendering per vedere che cosa risulta da questa operazione. Andiamo nella sezione Render Properties, nella sottosezione Render andiamo a indicare Non Noise Threshold, quindi la disattiviamo, ma andiamo a indicare un numero di sample pari ad esempio a 16, lasciando attivo il denoise. Perché così pochi? Perché in realtà adesso stiamo solo sperimentando, quindi non ci interessa avere un'immagine completamente priva di grana. Un'altra cosa che cambierei prima di lanciare il rendering è la dimensione dell'output. Siccome per default la Don Fspy ci va a modificare la risoluzione del rendering in modo che combaci esattamente con i pixel dell'immagine utilizzata, andiamo a dire a Blender che vogliamo renderizzare ad esempio solo il 50% dell'immagine. Questo vuol dire che la dimensione sarà sempre 3024x1998, ma sarà scalata del 50% in maniera proporzionale. Premiamo quindi F12 e vediamo che cosa viene fuori. Ed ecco il risultato. Non è esattamente quello che ci stavamo aspettando. Dove è finita l'immagine di sfondo? Bene, l'immagine non c'è perché Blender ce la fa vedere esclusivamente come immagine di sfondo nella fotocamera. Dobbiamo andare noi a dire che la vogliamo visualizzare. E questo è proprio un ottimo esercizio per utilizzare il compositing. Chiudiamo quindi la finestra Blender Render e andiamo ad attivare il Layout Compositing. Abilitiamo Use Nodes e vediamo che il nodo Render Layer presenta soltanto tre connettori in uscita e manca in particolare il connettore Shadow Catcher che è quello che ci eravamo prefissati di studiare. Quindi andiamo nella sezione View Layer Properties e andiamo ad abilitare Shadow Catcher. Vedete che compare. Tuttavia vi ricordo che una volta che si aggiunge un nuovo connettore bisogna rilanciare il rendering altrimenti non vediamo nessun risultato. Premiamo nuovamente F12 e richiudiamo Blender Render. Come abbiamo già visto nelle scorse lezioni per visualizzare nello sfondo dell'editor l'immagine che stiamo producendo andiamo a inserire un nodo di tipo Output Viewer. Quindi inseriamo il Reroute e andiamo a connetterlo in Viewer. Con il tasto V possiamo ridurre la dimensione dell'immagine e cliccando sul nodo Viewer abbiamo la possibilità di agire direttamente sui quattro angoli per modificarne la dimensione. Bene, abbiamo la nostra testa di scimmia ma manca sia l'ombra sia soprattutto l'immagine di sfondo. Andiamo a inserirle insieme. Per inserire l'immagine di sfondo la procedura è semplicissima. Basta trascinare la foto che abbiamo utilizzato in Fspy all'interno dell'editor del compositing. Blender crea direttamente il nodo, è un nodo di Input, infatti non ha connettore sulla sinistra e abbiamo in uscita questo connettore chiamato Image che andremo a mescolare insieme con l'immagine in uscita del Render Layer. Come facciamo per unire due immagini insieme? Utilizziamo un nodo di tipo Color, quindi Shift A, Color, Alpha Over. Andiamo a posizionarlo sopra alla linea di connessione tra l'Image e il Reroute. Vedete che diventa bianca, clicchiamo col tasto sinistro del mouse per confermare. Quindi andiamo a connettere sotto l'immagine di sfondo. Cosa succede? Succede che, come abbiamo visto anche in altre occasioni, quando abbiamo due input in un nodo che unisce insieme due immagini, il valore Factor ci indica quanto della prima immagine deve essere visto e quanto della seconda immagine. Quando il valore Factor è pari a 1, si vedrà al 100% la seconda immagine e a 0% la prima. Viceversa, quando il fattore è a 0, non vedremo nulla della seconda immagine, ma vedremo tutto della prima. Noi però non abbiamo bisogno di sovrapporre le immagini in maniera uniforme. Dobbiamo fare in modo che venga sovrapposta solo la parte della mesh. E in questo caso andremo a utilizzare il canale Alpha da inserire come input nel nodo Alpha Over. Facciamoli insieme e ci accorgiamo che sì, ha funzionato perfettamente, ma esattamente al contrario di quello che ci eravamo prefissati. Vediamo infatti l'immagine ritagliata solo nella sagoma della nostra Suzanne. In realtà la soluzione è molto semplice. Basta invertire i due connettori image, quindi metteremo quello sotto al posto di quello sopra e viceversa. Ecco quindi che abbiamo la nostra Suzanne sovrapposta alla foto. Però qualcosa ancora non torna. Se ci avete fatto caso, Suzanne non era così piccola, perché l'immagine che noi abbiamo inserito adesso nel nostro sistema di nodi è un'immagine a dimensione piena, mentre noi abbiamo creato un rendering al 50%. Quindi dovremo fare in modo di ridurre questa immagine per farla combaciare. È più facile farlo che spiegarlo. Inseriamo un nuovo nodo con Shift A, andiamo nel gruppo Distort e selezioniamo Scale. Questo nodo serve per scalare le informazioni di tipo RGB, le immagini in poche parole. L'andiamo a mettere nel connettore che collega l'immagine con Alpha Over. Quindi andiamo a selezionare dal menu, anziché Relative, Render Size. Ovvero stiamo chiedendo a questo nodo di ridimensionare l'immagine in ingresso con lo stesso identico numero di pixel che abbiamo impostato in fase di rendering. Questo ci permetterà anche di variare successivamente la dimensione del nostro rendering, tanto sapremo che ci sarà sempre questo nodo a correggere la scala automaticamente. Ecco che adesso Suzanne ha di nuovo la dimensione corretta, perché in realtà abbiamo ristretto l'immagine di sfondo. Tuttavia notiamo che manca ancora questa famosa ombra. Dove è finita questa ombra? La troviamo qui, in uscita dal connettore Shadow Catcher. Con Ctrl Shift facciamo clic sul connettore per andare a vedere qual è il risultato in uscita da Shadow Catcher. È un'immagine che rappresenta l'ombra di Suzanne. Bene, ora utilizzeremo questa ombra per andare a proiettarla assieme al rendering e assieme all'immagine di sfondo. Inseriamo un nuovo nodo con Shift A, andiamo nel gruppo Color e selezioniamo questa volta il nodo Mix. Il nodo Mix funziona come i layer in Photoshop o in Gimp. Se facciamo clic nel menu Mix vediamo che abbiamo diversi tipi di fusioni tra gli elementi in ingresso. Ad esempio abbiamo Multiply, Color, Saturation, eccetera. In questo caso proviamo con Multiply e come input andiamo a inserire Shadow Catcher. Ed ecco che adesso abbiamo anche la nostra ombra. Questo è un esempio pratico di compositing in cui siamo andati a utilizzare l'informazione di tipo Shadow Catcher per creare un fotoinserimento realistico. Bene, per questa lezione è tutto. Se non l'avete ancora fatto vi invito a iscrivervi al canale. Come sempre vi ringrazio per avermi seguito e ci rivediamo presto.